Emozione e un po' di timore, ma alla fine è andato tutto per il meglio. Sono questi i sentimenti alla base del primo giorno di scuola, un ritorno a pieno regime in presenza in gran parte d'Italia e che in Puglia tuttavia ci sarà dal 20 settembre prossimo, anche se alcuni istituti hanno scelto di partire invece già nella giornata di oggi. E' la decisione dell'Istituto Colasanto di Andea, che ha accolto stamane i suoi studenti. E' una grande emozione, è stato pesante passare tanto tempo con la diattica a distanza, specialmente per il preside perché il dirigente scolastico sta spesso in ufficio, però quando gli alunni stanno a scuola in presenza ha modo di conoscere, di parlare con loro, di interagire, di rispondere alle loro domande, di soddisfare le loro esigenze. Purtroppo invece con la diattica a distanza gli studenti non li ho visti più. E questo è stato molto pesante per me perché la scelta di essere un dirigente scolastico è la scelta di essere un'educatore. Circa 800 alunni da gestire, 44 classi, ma tutto è andato al meglio in questa mattina. Davvero pochissimi minuti per accedere per tutti quanti gli studenti. Come vediamo ci sono percorsi ben prestabiliti, ingresso A sono diversi, sono cinque esattamente tutti gli ingressi, colori, percorsi. Insomma davvero una organizzazione perfetta qui all'interno del Colasanto, due diversi orari anche di accesso all'istituto, come ci spiega il preside. Abbiamo suddiviso intanto per questo primo giorno le classi in due momenti di ingresso. Le classi successive alla prima alle 8 e mezzo e le classi prime alle 9 e mezzo. Appunto per evitare di ammassare troppi alunni e anche perché il primo giorno, siccome abbiamo suddiviso la scuola in cinque settori, ognuno contrassegnato da un colore, qui per esempio c'è il settore Senape, ogni ingresso porta direttamente al settore. Quindi non è soltanto una questione di ingressi differenziati, ma ogni ingresso ha già un percorso delineato che porta a un determinato settore per impedire che gli alunni girino per la scuola e vaglino in cerca della classe. Mascherine anche in classe, se non tutti sono vaccinati e Green Pass per tutto il personale scolastico. Con le nuove regole per la scuola in presenza, come ci spiega il preside dell'istituto Cosimo Strazzeri, la quasi totalità del personale scolastico di questa scuola possiede già la certificazione verde, elemento obbligatorio per chiunque entri nell'istituto, compresi i genitori. Un elemento che ha creato diverse polemiche, ma che in questa scuola non crea al momento problemi o divisioni. Si può dire che il 98% del personale ha il Green Pass, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. è stato più semplice di quando si pensasse. I genitori, quando devono entrare, o gli estranei, anche il vostro operatore, hanno dovuto esibire il Green Pass. Quindi, no, no, devo dire che non ci sono state quelle difficoltà che alcuni catastrofisti prevedevano. Siamo andati abbastanza bene.